Oggi, il mio giorno prima, è arrivato con un po' di ritardo di Torino-Sandore che si terrà domani alle 21, mercoledì 3 aprile. Allora, devo dire che ho passato questi giorni in attesa del fatidico match contro i genovesi molto male, nel senso che spesso anche non stavo concentrato quando la gente mi parlava, commettevo errori banali magari a scuola, pure negli esercizi, e sì, è una cosa stupida farsi condizionare da una partita, però questo dimostra come questo match contro la Samp sia veramente, veramente molto importante. Di fatto, non ottenendo tre punti, non dico che saremmo fuori dalla corsa per l'Europa League, però quasi, è sicuramente a mani basse il match più importante della stagione. E non è una lotta per la Champions, come dice Giampaolo, non è una lotta per la Champions assolutamente, è uno spareggio per l'Europa League, sì, questo sicuramente. O almeno, quello che vince, la Samp o il Torino, può puntare con più convinzione alla Coppa UEFA, all'ex Coppa UEFA, ecco. Allora, senza Iago sarà più dura, avremo Zato davanti o Parigini, speriamo che Simone si riscatti, sarà contro la sua ex squadra, ci sarà anche Quagliarella, quindi la difesa dovrà essere pronta. Tenta, però, torna in culù, torna in culù a completare la difesa assieme a Moretti e Izzo, quindi non avremo più dribbling a Zarta TTCC che, in presenza di Defrel, ubriaco e di Quagliarella, è un problema. Mentre tra le file della Samp penso che mancherà solo Ekdal e per il resto la squadra sarà la stessa. Però sulla carta, ragazzi, siamo superiori e soprattutto contro il Milan, la Sampdoria ha fatto un notevole sforzo fisico, riuscendo a resistere per 90 minuti in totale pressing e in totale controllo della partita. 90 minuti così, in quel modo, ti stanca parecchio. Quindi, secondo me, noi non abbiamo neanche tanto faticato contro la Fiorentina, insomma, al secondo tempo siamo andati in scioltezza proprio, e di conseguenza, essendo anche, secondo me, messi meglio fisicamente, potremmo riuscire a battere la Sampdoria. Non senza problemi, perché è una squadra tosta, una squadra molto forte, però, insomma, non è un'impresa impossibile. Devo ammettere, però, che, insomma, in vista della gara sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Non preoccupatevi, invece, per le parole di Mazzarri, perché Mazzarri, dopo ogni conferenza, usa sempre le stesse parole. Tende sempre a elevare a squadra per lo scudetto la nostra avversaria e tende sempre a sottovalutare, invece, quello che è un po' il Torino. Magari è, insomma, come ho scritto anche nel post su Instagram, dal punto di vista mentale questa cosa incide molto. Incide molto, perché l'avversario, magari, si aspetta dal Torino una partita differente, anche prendendo spunto, vedendo le parole di Mazzarri. Invece, dalle parole di Giampaolo si capisce subito quale sarà l'atteggiamento della Sampdoria. Giampaolo, spero di non aver detto Sampaolo, non lo so. E quindi sarà una partita molto, molto difficile. Sirigu dovrà essere in forma, dovrà essere pronto, perché con Quagliarella De Frel, ripeto, è molto difficile. La difesa attenta al centrocampo, ragazzi. Attenzione al centrocampo, perché loro, secondo me, non hanno ottimi interpreti al centrocampo, quindi dobbiamo anche riuscire a vincere la partita là in mezzo al campo, perché le partite si vincono al centrocampo. Dovremmo fare, insomma, una partita impeccabile. Una partita impeccabile per portarci a casa i tre punti e magari sfruttare un possibile tracollo da parte della Samp, dell'Atalanta, della Roma, eccetera. È un po' difficile che magari l'Atalanta vada a perdere col Bologna o pareggiare, però non si sa mai, insomma. Non si sa mai. Quindi, nient'altro da aggiungere, se no, sempre Forza Toro. Questo era il mio breve giorno dopo, che però, insomma, questa agonia si protrae da domenica, insomma. Ho veramente ansia, non vedo l'ora che questa partita finisca e spero di consumare il telefono a forza di rivedere gli highlights di Torino Sampdoria di mercoledì 3 aprile. Quindi, ripeto, sempre Forza Toro. Ciao ragazzi, speriamo bene.